Tempi di attesa per prenotare una visita attraverso il CUP, il centro unico di prenotazioni dell'asle di Salerno, lunghissimi e a volte si concludono con un nulla di fatto. Le proteste arrivano da numerosi utenti del CUP dell'area del Cilento e non solo. Diverse le segnalazioni di disservizi, molti dei quali di differente natura. Ci sono utenti che si lamentano perché non riescono a prendere la linea in determinati orari, altri che nonostante l'urgenza dichiarata sulla ricetta medica si vedono costretti a farsi prescrivere una ricetta normale perché con l'urgenza il sistema non riesce a garantire la visita entro le 72 ore. Non è possibile che per prenotare una ecografia oculare urgente bisogna attendere quasi due mesi, scrive alla nostra redazione un cittadino di Agropoli. L'ospedale di Vallo della Lucania non ha ripreso a fornire le prestazioni sanitarie per quanto riguarda il reparto di oculistica. Dunque il presidio ospedaliero di Eboli e quello di Polla sono le uniche strutture sul territorio che garantiscono le visite ma con tempi di attesa lunghissimi. C'è poi chi lamenta anche i tempi di attesa per parlare con l'operatore. Per arrivare a ottenere risposta confermano gli utenti. Occorre stare al telefono anche più di 15-20 minuti se va bene. Non sappiamo o raccontano se i dirigenti sono a conoscenza del fatto che talvolta occorre anche un anno per ottenere l'appuntamento. Come se non bastasse capita che dopo aver finalmente preso la linea gli operatori chiedono richiamare il mese successivo perché le disponibilità sono esaurite. Insomma una situazione che non può essere più tollerata visto anche il periodo pandemico che ha rallentato e quasi annullato molte visite mediche. I cittadini sono allo stremo e soprattutto in questo delicato momento non possono permettersi il lusso di una visita medica in uno studio privato. È tempo di migliorare il servizio e di farlo subito.